Eccoci come è stato, un saluto a tutti ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosissimi, a iscrivervi, a lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte e attivate anche la campanella. Volevo commentare con voi un fatto riguardante il Milan, ci sono tanti elementi assurdi, però uno in particolare nel contenuto di questo video, cioè Yassin Adli. Yassin Adli che era entrato nelle rotazioni, ha fatto anche delle partite per necessità, non per scelta di Pioli, l'abbiamo capito, ha fatto delle cose buone, cose meno buone. Poi succede che rientra Krunic, Krunic rientra durante la gara con la Juventus e sostituisce proprio Adli, che va in panchina. È il 22 ottobre, il 25 ottobre Krunic è titolare, Adli fa appena 13 minuti col Paris Saint-Germain. Il 29 ottobre contro Napoli, Adli sta in panchina tutta la partita. Poi, il 4 novembre contro Udinese, Adli entra nel secondo tempo perché Krunic ha un problema, altrimenti sarebbe entrato magari più tardi, non avrebbe neanche giocato. Il 7 contro Paris Saint-Germain, Adli rimane in panchina 90 minuti, non entra nemmeno. L'11 contro Lecce, Adli resta in panchina 90 minuti, non entra nemmeno. Tornato Krunic, non ha più visto il campo. In pratica non ha quasi più visto il campo. Ma è giusto così, secondo me è assurdo. Non è che dall'altra parte dici, oh Modric, oh Krunic. Ma è un Krunic che è rientrato malissimo dopo la sosta. Adattato tra l'altro in un ruolo che non è anche suo, ma sta facendo proprio male. Ma male, male, male. Ogni partita. Però deve giocare sempre. E poi qualcuno dice, Eh ma è il cocco di Pioli, qualcuno si arrabbia. Ragazzi, sembra davvero il cocco di Pioli. Perché non esiste che abbiamo un minutaggio del genere, una centralità nel progetto così. Il Milano ha dovuto cederlo in estate, quando Pioli ha detto no, me lo tengo. E oggi gioca a Krunic, Adli è tornato a essere un oggetto misterioso. Per me è una situazione assurda. Leggerò i vostri commenti qui sotto. Lasciate un bel like, iscrivetevi qui numerosi, mi raccomando, ci tengo. Ciao!